Ciao ragazzi, bentornati nuovamente sul mio canale, in questo caso come vedete alle mie spalle nel My Lab Studio. Vi dico cos'è il My Lab Studio in parole povere per chi non lo conosce. È uno studio listico, quindi dove si parla del principio mente-colpo-spirito, quindi anche un principio del Pilates, dove si lavora, come vedete, il mio lettino, quindi un lavoro di massaggio dove potrebbe essere un massaggio sportivo, un massaggio fasciale, quindi un po' più profondo dove va a lavorare in maniera un po' più specifica sulla fascia. Non vi dico che cosa è la fascia, secondo me va per un argomento lunghissimo. Da lì viene spostata comunque l'attenzione sulle metodiche della postura, dalle squadre mesiere, fino ad arrivare comunque alle problematiche posturali da correggere grazie anche a tutto ciò che ho imparato grazie al dottor McGill, che è il miglior asponente al mondo per quanto riguarda le problematiche delle dacchide. Da lì comunque spostiamo la persona a una deatletizzazione, quindi facciamo capire spesso e volentieri, faccio capire spesso e volentieri come ci si muove, perché ci si muove male, oppure abbiamo acquisito delle posture sbagliate che ci portano a delle problematiche. Quindi ci spostiamo nell'allenamento funzionale, che non è altro che riportare, adesso vi dico in parole povere, tutto ciò che facciamo nella nostra vita quotidiana, punto. Poi possiamo fare l'allenamento funzionale anche per 3, 4, 5, 6, 7 giorni, ma in parole povere è tutto quello che facciamo nella nostra vita quotidiana fatta in maniera corretta. L'argomento di cui trattiamo oggi è la gravidanza. Mi sono state fatte tante domande per quanto riguarda la gravidanza. Posso dire che per quanto riguarda l'allenamento pre-gravidanza, quindi prima della gravidanza, se sei una persona che ti sei sempre allenata in palestra, potrai allenarti anche durante e post-gravidanza, ovviamente con delle raccomandazioni. Questa potrebbe essere già una risposta che vi posso dare. Mi posso allenare durante la gravidanza? Sì, ovviamente dipende da tanti fattori. Dipende da fattore, prima di tutto, se sei una persona che è riallenata, quindi puoi continuarti a allenare. Quando? Io questa cosa qua lascio sempre, tra virgolette, decidere al medico, in questo caso al ginecologo, per quale motivo la ginecologa, se è donna. Specialmente i primi tre mesi. I primi tre mesi di gravidanza sono i mesi, tra virgolette, più importanti, quindi io andrei sempre con i piedi più in questa fase, quindi per quanto riguarda l'allenamento farei soltanto un po' di lavoro cardio, un po' di mobilità, se non ci sono delle problematiche. Se ci sono delle problematiche a livello di gravidanza, in quel caso sono completamente fermo. Comunque bisogna chiedere sempre al medico, non bisogna mai fare di testa nostra. Nel momento in cui sono passati questi tre mesi, quindi tre mesi, tra virgolette, un po' più importanti, posso iniziare a fare dell'attività fisica, in modo graduale, in modo specifico e pensando che cosa sta avvenendo all'interno del corpo femminile. A livello ormonale abbiamo un cambiamento spaventoso, quindi c'è un aumento di tantissimi ormoni nelle donne, quindi ci sono anche degli sbalzi d'umore ed è questa cosa normalissima. A me piace essere molto semplice, quindi non parliamo di ormoni, quindi parliamo di testosterone, di proclatine e cose più, perché comunque i miei video devono essere un pochino capiti da tutti. Però se vogliamo andare all'ospice, si può andare tranquillamente. Quindi già la fase ormonale è una fase molto importante per la donna. Seconda cosa, inizia a cambiare il sangue all'interno del nostro corpo. Quindi nel corpo femminile aumenta la quantità di sangue, quindi il cuore dovrà battere di più, perché aumenta la quantità di sangue, perché comunque avremo prima un feto, poi successivamente un bambino. Quindi anche questa cosa ci si... Cosa vuol dire questa cosa qua? Ci si affatica molto più facilmente. A livello purtroppo di ritenzione indica aumenta, anche perché comunque c'è la fase ormonale che cambia. Cambia tantissimo l'aspetto posturale. Per quale motivo? Sia a livello di bacino cambia, sia a livello di esterno toracica, le articolazioni della parte superiore. Per quale motivo? A livello di bacino cambia, perché aumenta la rottosi lombare, quindi mi aumenta la curva lombare, aumentando la curva lombare, perché comunque inizia a crescere il pacione. Quindi, se a me cresce il pacione, non posso stare così, tenderò a stare in aumento della lombare e spesso e volentieri, a livello di esterno toracica, tende a fare questa cosa qua. Quindi iniziano le prime problematiche a livello di schiena. È molto importante anche andare da un professionista, perché non da un osteopata, che comunque ti riesce a curare. Tutto questo spesso e volentieri, sempre dopo i tre mesi, perché in questa fase l'osteopata normalmente non fa mai dei trattamenti. Quindi, è importante anche, non soltanto il lavoro di aspetto fisico, ma il lavoro osteopatico, perché comunque ti aiuta. Quindi vi stavo dicendo di problematiche alla schiena, problematiche a livello dorsale, parte superiore, ma anche a livello cervicale, perché qua la curva cambia, quando spesso e volentieri cambiano la curva, le altre curbe dell'acchile tendono a cambiare, le curbe della schiena. Quindi cambia qui, spesso e volentieri cambia qui, può aumentare o diminuire comunque le altre due curbe, perché ricordiamo che la nostra chieschiena ha la doppia S, per diminuire le sollecitazioni. Quando aumenta qui, può aumentare qui, o può diminuire qui. quindi il nostro corpo è differente rispetto a un'altra. Quindi una postura perfetta, tra virgolette, teoricamente non esiste. Cambia a livello, parte superiore del corpo, perché spesso e volentieri, cosa succede? nelle donne tende a aumentare il seno. Tendendo a puntare il seno, succede che chi non è abituato, tende a buttarsi davanti. Poi chi già ha un seno molto prosperoso, pensate che magari già ho una terza abbondante, una quarta, tende a aumentare, non tanto nei primi mesi, nei mesi successivi, o anche più vicino al parto, quindi aumenta ancora di più. Pensate cosa succede a livello di muscoli antigravitazionali, muscoli che dovranno reggere la postura. Quindi pensate che cosa succede da questo punto di vista posturale. Questi sono degli aspetti molto importanti da tenere in considerazione, quindi come allenare una donna. E' importante allenare il diaframma, quindi la respirazione. Ricordate che il diaframma è questo palloncino che andiamo all'interno dell'addome, che può aumentare sia andando verso fuori che andando verso l'alto. E' importantissima la respirazione, ma è molto importante imparare a utilizzare la respirazione e imparare a utilizzare il cosiddetto lavoro del pavimento pervico. Questa zona qua è anche il lavoro dello sfintere. Perché sono importanti? Sono importanti sia per il futuro concepimento del bambino, ma è importante anche per il posto parto, perché comunque imparare a gestire il pavimento pervico, a gestire i sfintere. E' importante perché spesso e volentieri succedono delle problematiche di perdita di urina. e quindi questa cosa, se io imparo a gestire respirazione, il pavimento pervico, la spinta ranale, mi aiuterà tantissimo, sia per il parto che per il post parto. Torniamo di nuovo al nostro allenamento. Quindi se ero una persona che mi allenavo prima, anche con i pesi, continuerò a allenarmi, magari mantenendo, faccio un esempio, se facevo degli allenamenti ad alta intensità, sicuramente non posso fare più degli allenamenti ad alta intensità di prima, per tutto quello che vi ho detto, aumentate frequenza cardiaca, tensione della schiena, eccetera, eccetera, eccetera. Posso fare degli allenamenti con un'intensità un po' più ridotta e dovrò avere delle pause un po' più lunghe, perché avrò il fiatone. Quindi facciamo un esempio, se prima mi allenavo in 45 minuti, adesso dovrò spalmare il mio allenamento in un'ora e mezzo. Posso fare gli squat, posso fare gli affondi, posso fare queste cose? Sì, ma bisogna capire chi ho davanti io, perché se io ho una problematica, bisogna fare le cose con i guanti, come dico sempre. Bisogna capire la persona davanti, non tutte le persone sono uguali. Fare uno squat lo posso fare, fare uno stacco lo posso fare, fare una salita di un gradone lo posso fare. Che cosa devo evitare principalmente? devo evitare delle sollecitazioni, sia a livello di schiena che a livello di pancia. Quindi evito ciò che sono dei salti, evito di fare, se faccio discipline tipo musicale, evito di fare step e così via. Tutto ciò che deve creare una pressione. L'evito, sia per un fattore di schiena, che per una pressione interna. quali addominali posso fare durante la mia pre, durante e post? Allora, durante, ho detto che sono passati tre mesi, imparo a gestire tutto ciò che siano lavori di stabilità. Quindi evito tutto ciò che siano delle pressioni del busto. Quindi i cosiddetti crunch, i cosiddetti sit-up. quindi questi dico tutti i suoi periodi che sfruttano. Tutto che faccio questo lo devo evitare. Per quale motivo? Perché paradossalmente c'è una pressione a livello addominale. Ma vado a fare tutto ciò che è una stabilità. E va a concentrare il lavoro sugli obbligo esterni, quindi su questa parte qua, sugli obbligo interni, sul trasverso. Quindi andiamo a lavorare nel cosiddetto core stability che è fondamentale. non soltanto per la gravidanza, è fondamentale per tutti. Averte e chiuso a fendisi. Vado a lavorare con tutto ciò che mi dà attivazione del gluteo, tutto ciò che mi dà attività all'attivazione del pavimento pelveo e quindi tutti i vari ponti, quindi tutti i vari bridge. E da tutti i suoi vicini andiamo a darci delle varianti. Questo stiamo partendo quindi lavoro sull'addome e lavoro su tutti le core stability. Una zanzarina. ovviamente posso gradualmente aumentare i carichi se facciamo degli esercizi come se fosse uno squat, una foot e così via ma graduale. Lavorare sempre con intelligenza perché comunque anche se abbiamo detto che è una cosa normale la gravidanza però non devo esagerare. Cambiare il programma di allenamento ogni 4 in base a 6 settimane considerando questa cosa qua che è molto importante lavori di mobilità aperte più da parere diciamo questa cosa qua la mobilità deve essere la base della del del questa zanzarina me la manco prima di fare tutti gli esercizi di a livello muscolare dobbiamo lavorare sull'articolazione quindi lavorare con la mobilità è la cosa più importante che sono in gravidanza che sto facendo attività fisica eccetera 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 la mobilità come dice il mio il mio mentore sono i mattoncini invisibili quindi è fondamentale creare mobilità a livello articolare delle articolazioni più importanti quindi come quella dell'anca e come quella della spalla e successivamente andiamo a fare un rinforzo muscolare e come dicevo il rinforzo muscolare deve essere cercando di mantenere tutto i retropositori della scapola che ti mantengono la postura di conseguenza ti mantengono un po' più dritta una volta fatto tutto questo già ho fatto il buon 70% del lavoro quindi posso lavorare tranquillamente a livello muscolare ma è importante anche il lavoro cardio dicevo un cardio che non deve avere un'intensità alta ma deve essere un'intensità medio bassa se voglio stare ancora più sotto voglio essere ancora più intelligente se utilizzo un cardiofrequenzetro in modo che mi mantiene la frequenza cardiaca posso monitorare la mia frequenza cardiaca ce ne sono talmente tanti da partire da quello del DECA scusate la pubblicità che faccio DECA fino ad arrivare che costa un 15 euro fino ad arrivare a 250 300 400 euro dove andiamo su di prodotti un po' più specifici potrebbe essere un Polaro un Sunto un Garmin eccetera 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 quindi alternare sedute a livello muscolare con sedute a livello di cardio o altrimenti nella stessa seduta faccio un lavoro muscolare e lavoro cardio all'inizio e alla fine della seduta all'inizio l'utilizzo come aumento della frequenza cardiaca non in modo esponenziale e alla fine l'utilizzo come defaticamento dopo che ho fatto la mia seduta vado a fare dello stretching dello stretching specifico sempre per la schiena che abbiamo detto è quella che soffre di più tutto questo deve essere ovviamente programmato e periodizzato da persona a persona quando mi sto avvicinando al parto vado a diminuire sempre di più intensità ci sono persone che si sono allenate fino al giorno prima del parto quindi questo è no ma io non mi voglio allenare dipende da persona a persona dipende da medico a medico ci sono medici che hanno paura e quindi non ti fanno allenare non ti fanno andare in palestra magari ti fanno andare un pochino in piscina a camminare in piscina va benissimo per la circolazione e così via ci sono persone che diranno che è perfetto hai sempre fatto attività fisica continuano a fare anche durante la gravidanza però magari fatti seguire da una persona specifica punto per quanto riguarda il post parto lì la prima cosa che bisogna fare è bisogna un attimino fermarti prima dei 40 giorni prima di andare dal ginecologo quindi prima di andare al ginecologo inoltre a virgoletta a parte camminare un pochino se ce la facciamo la donna non deve fare nulla perché comunque è una cosa molto importante andare al ginecologo e quindi fare una vista e vedere se è comunque tutto a posto dopo che sono stato dal ginecologo va alla ginecologa è importante e se no ho delle problematiche e così via è importante andare da una seconda figura come dico sempre andare dall'osteofato da un fisioterapista da un chilo pratico da una persona che comunque ti va a trattare perché comunque durante il parto se è stato sia un parto naturale o un parto cesare e poi lì diventa un pochino aprire un discorso molto lungo sul parto cesareo se è un parto naturale o comunque c'è stato uno spostamento degli organi interni eccetera quindi comunque una figura professionale come l'osteopata ti può aiutare se è stato un parto naturale anche se è stato un parto cesareo ti può aiutare sempre l'osteopata però considerate che con un parto cesareo c'è un taglio un taglio a livello addominale anche se adesso fanno i tagliettini piccolini comunque è un taglio quindi è una cicatrice è una cicatrice influenza tantissimo la nostra postura purtroppo in un modo spaventoso le cicatrici influenzano la postura tanto 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 quindi e da lì purtroppo anche con con questo tipo di parto quindi che non è naturale si possono andare a verificare delle problematiche come diastasi addominale spesso e volentieri si trova anche nel parto naturale ma avviene maggiormente nel parto cesareo è uno spostamento della parete addominale quindi vanno due lati opposti ci sono tanti gradi di astasi in alcuni gradi si può lavorare anche soltanto a muscolare quando è è un po' più grave la cosa purtroppo ve lo dico sinceramente bisogna andare soltanto sotto un intervento chirurgico non si può fare nulla in palestra è inutile rispondere dai addominali anzi è peggio che altro perché comunque se immaginate immaginate il muscolo addominale il retto addominale i cosetti quadrettini quelli là che hanno il bodybuilder che ce l'hanno di fuori si spostano lateralmente e quindi come se venisse fuori la pancia quindi se è una cosa uno stato abbastanza facile si può anche magari trattare bisogna vedere fino ai sei mesi più o meno dopo il parto bisogna vedere lo stato di gravità successivamente diventa un po' un casino quindi in quel caso bisogna andare a fare una visita chirurgica e vedere se andare a intervenire chirurgicamente ma lì in questo caso qua non è più il mio campo ma si va tutto su un altro campo per quanto riguarda la diastasi è importante comunque dopo sei mesi vedere come vi dicevo la situazione lavorare con degli addominali lavorare sulla respirazione lavorare quindi nuovamente sul diaframma sul pavimento pelvico su tutti i muscoli accessori dell'addome quindi vari flessori e così via ma lì veramente il discorso è molto lungo quindi purtroppo la diastasi addominale bisogna capire il grado e se qualcosa si può fare in palestra o no ma meglio comunque andare da un professionista questa è anche una domanda delle vostre un'altra domanda era quanto tempo ci metto per dimagrire anche lì è molto lunga la cosa da dire perché comunque il dimagrimento specialmente se c'è l'allattamento una donna ci mette molto più tempo per dimagrire per un fattore ormonale perché c'ha degli ormoni molto alti come dico sempre c'ha le prolattine cioè sono gli ormoni che producono il latte che tendono a abbassare il metabolismo quindi in quel caso io cosa devo fare comunque devo stare in normodieta e devo creare una piccola restrizione calorica faccio un esempio se la mia normodieta è di 1500 calorie e ve la sto buttando giù devo ridurre un po' di calorie durante la settimana ma sono cose che ve lo sto dicendo ma non sono io il professionista che vi deve dare le diete ma è il nutrizionista dietologo dietista punto una leggera restrizione calorica ma non eccessiva perché altrimenti dopo il metabolismo già è abbassato se togliete tantissime calorie va a completare del blocco e quindi diventa un problema anche a livello di latte se state allattando nel momento in cui smettete di allattare vedrete che tempo tre mesi quattro mesi inizia a cambiare nuovamente il vostro metabolismo specialmente se vi state comunque allenando vi state promuovendo e tenderete a smeguire molto più facilmente quindi dopo che avete smesso di allattare prima avviene ma non in modo eccessivo di sgonfiate piano piano ma comunque ci sono tantamente tanti ormoni all'interno del corpo che è un problema per quanto riguarda il seno all'allattamento qualcuno mi ha fatto una domanda ma il mio seno allora a partire dallo sborso il seno è composto principalmente da ghiandole comunque adipose quindi spesso e volentieri tante donne quando ingrassano io aumento più il seno e tante donne quando diminuiscono e diminuisce il seno purtroppo succede questa cosa che se c'è un seno molto prosperoso e smetto di allattare e va giù diminuisce anche l'epidermide quindi l'epidermide a livello muscolare ci fai poco in quel caso se ti diminuisce tanto il seno purtroppo lo dico già sinceramente anche in quel caso devi rivolgere a un professionista se non ti piace tanto il tuo seno bisogna andare sotto i ferri lo dico perché determinate cose in palestra non si possono fare ragazzi o in studio o dove sia non c'è la bacchetta magica nessuno c'è la bacchetta magica se vi vendono il fumo non è nulla di nulla di reale bisogna capire che determinate cose si possono fare determinate cose non si possono fare quando vi dicono che c'è ragazzi c'è il dimagrimento localizzato di per sé dimagrimento localizzato non esiste ci sono delle piccole strategie ma di per sé fondamentalmente non esiste quindi quando diranno guarda ti faccio dimagrire la pancia ma che di che stiamo parlando spero di essere stato abbastanza chiaro se volete iniziare a allenare in gravidanza io dico aspettate se non avete mai fatto nulla proprio durante la gravidanza vi volete allenare perché magari tendete a ingrassare quello di cui io state sotto il regime fatevi seguire da professionisti e fate magari soltanto attività fisica moderata quindi camminare e così via durante appena avete smesso di allattare quindi o se non allattare comunque appena sono passati quei 3-4 mesi comunque dopo la vostra del vostro medico potete iniziare a fare attività fisica quindi magari se durante la gravidanza io non ho mai fatto nulla e voglio fare attività fisica durante la gravidanza aspetterei un pochino e anche dopo se ho preso tanti chili così come le presi ci vorrà del tempo ma li perderai ricorda il partagotto dal tuo cervello quindi se io ho intenzione di dimagrire dimagrisco ovviamente devo mettermi al regime non posso dire guarda non ho tempo non c'ho voglia alimentazione allenamento o stanza ragazzi sono queste le tre cose fondamentali è importante durante la gravidanza una disciplina lo yoga perché lo yoga comunque aiuta tantissimo ci sono anche degli insegnanti di yoga che fanno proprio yoga specifico per la gravidanza perché comunque lo yoga ci sono alcuni tipi di yoga che sono molto dinamici quindi diventa una sorta di mobilità per questo fa bene lo yoga per quanto riguarda il pilates quindi sempre disciplina olistica alcuni ci sono alcuni tipi di pilates in gravidanza che vanno bene altri tipi no considerate che il pilates la maggior parte del tuo tiro sono tutti esercizi in flessione anteriore viola la distabilità e così via nei momenti in cui la tua pancetta è piccolina va bene ancora la piccola la tua pancetta inizia ad essere grossa uno soffrirà ancora di più di schiena se fai tutti questi esercizi due non ci riuscirà perché c'è la pancia quindi magari da una lezione a meglio che fai una delle lezioni private va bene magari se fai delle lezioni che non so con le macchine del pilates potrebbe essere deforme mercati e così via va ancora bene se devi fare una lezione di gruppo che non è specifico di pilates in gravidanza vedrai che sono gli esercizi che potrai fare e l'insegnante dirà questo lo puoi fare questo non lo puoi fare almeno il 50% degli esercizi del pilates in gravidanza purtroppo non li puoi fare te lo dico perché anche io sono insegnante di pilates quindi te lo posso garantire su questa cosa qua se lo fai invece one to one ti dice il stesso o lui o lei cosa fare e quindi va bene quindi tante cose si possono fare e tante cose non si possono fare basta bisogna essere intelligenti e mettersi nelle mani dei professionisti i professionisti chi sono? non soltanto il personal trainer è un professionista il professionista è un medico quindi per quanto riguarda il livello di alimentazione quindi dietista nutrizionista dietologo e così via ginecologo se vogliamo andare oltre al ginecologo comunque c'è il personal trainer che ti può aiutare e quindi sono tante persone con cui ti puoi confrontare il problema come dico sempre io non faccio il lavoro di un altro nel senso che io non faccio il ginecologo quindi prima di tutto per il ginecologo dopo il ginecologo ma è di conseguenza sotto di lui ci sarà il nutrizionista che sarà parallelo al personal trainer rieccomi scusatemi ma mi sono prolungato un pochino troppo nel parlare la volta precedente e la volta precedente anche perché devo avere un po' più di famiglia con questi video più parlati e quindi la memoria è terminata della macchina vi saluto ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto per qualsiasi cosa o per qualsiasi dubbio o perplessità scrivetemi tranquillamente e cercherò di rispondermi ok vi saluto e al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti